Mi sono perso un'altra volta cercando di venire qui. Questa è la casa più strana che io abbia mai visto. Ma in un certo senso ti rassomiglia? No, 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 basta. No, ti prego. E va bene. Non sono sicura che sia proprio un complimento. Lo è, certamente. E allora, perché non restiamo a vivere qui per sempre? Eh, ecco, sì, veramente. Ti ho spaventato? Povero Indrio, così era un complimento, vero? Ma cosa c'entra questo? Non cercare scuse, è meglio che tu stia zitto. Se non altro ti ho fatto ridere. Mi spiace, caro, scusami. Vedi, sono stati quei telegrammi. Non riesco proprio a capire. Non è meglio non parlarne. Perché non andiamo in giardino? Così possiamo vedere come hanno sistemato le cose. Ma non so cosa potremmo vedere fuori è talmente buio. Accendiamo le luci delle scale. Così vedremo anche all'esterno. Mi metto qualcosa? Va bene? Va bene, come vuoi. Quello che basta all'otra gente mi darà. No, di là non si può andare. Da anni quelle stanze sono chiuse. Perché? È l'appartamento di mia madre. È chiuso da quando sei ammalata. Capisco. Se proprio vuoi, te lo posso far visitare domani. Volentieri. Su, vieni, andiamo.